Quarta edizione della settimana biblica voluta fortemente dal Vescovo Su'Eccellenza Monsignor Ciro Fanelli della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa. Un tema importante, questa sera si è discusso della ricchezza, un tema discusso, un tema forse irrisolto, un tema che scuote le coscienze e che interroga le coscienze non soltanto del popolo cristiano ma anche di chi non crede che comunque si confronta con la società civile. Ha relazionato su questo tema Don Gerardo Cerbasi. Don Gerardo grazie, benvenuto a Tg7 Basilicata, grazie per aver accettato il nostro invito perché noi con lei vogliamo un po' fare una chiacchierata su questo che è un tema abbastanza diciamo importante perché il Signore ce ne dà insegnamento nel Vangelo. Ci sono, lei ha parlato, ha spiegato due parabole importanti dove si parla della ricchezza, ma quando la ricchezza si concilia con la fede? Nelle due parabole che abbiamo provato a leggere insieme del Vangelo di Luca abbiamo visto che proprio nell'esperienza di Zaccheo sembra quasi che le due realtà si possano conciliare. Egli che è un ricco capo dei pubblicani, ha tutte le carte in regola perché la parabola della sua esistenza sia decisamente orientata verso la perdizione, in realtà si innesca una chiave di volta che trasforma la sua esistenza, cerca di vedere Gesù. E' quello l'innesco della fede che gli consente poi anche attraverso la fatica, l'agonia, la lotta del dover superare qualcosa che gli appartiene, cioè la sua bassa statura, qualcosa di interno per cui mette in moto tutte le sue competenze per salire sull'albero e vedere il Signore. E' qualcosa di esterno che la folla, che gli si pone dinanzi, gli si para dinanzi prima come un muro e poi a mormorare quando il Signore entra in casa sua, fa questo scatto. Cerca di vedere il Signore, si lascia incontrare, si trova pronto ad andare anche oltre le proprie aspettative e lì nasce quella variazione di articolazione del rapporto con la ricchezza che fa dire al Signore oggi la salvezza è entrata in questa casa. Zaccheo restituisce, non trasforma la sua vita, ecco questa è l'idea che non è la ricchezza ad essere condannata in sé perché da strumento di oppressione, da compasso che segna la separazione, l'esclusione, una fonte di demarcazione, di distanza, può diventare invece lo strumento con il quale si ristabilisce la giustizia e si ricostruiscono le relazioni. Zaccheo fa questo. Oggi quanti Zaccheo ci sono o ci dovrebbero essere? Speriamo che ce ne siano sempre di più. Per quanto ci dice il Vangelo la chiamata è per tutti. Ciascuno ha le proprie ricchezze che possono essere di ordine materiale ma anche di ordine culturale, personale, si è parlato dei talenti, da mettere a servizio, da mettere a servizio della comunità, della comunità cristiana ma da mettere a servizio della società intera. Tutto questo è una forma di diffusione della ricchezza che combatte l'egoismo e genera la comunione. Senta, proprio oggi è stato stabilito il numero di quanti ne siamo nel pianeta, 8 miliardi. Ebbene, però si parla di una denatalizzazione nell'Europa, nell'Occidente e invece il contrario avviene nei paesi asiatici e in Africa. Ecco, e allora il tema della ricchezza appare quanto mai attuale perché ci sono comunque popoli che non vivono nella ricchezza ma anzi purtroppo oggi si muore ancora di fame. Non vivono nella ricchezza ma nella piena indigenza. Ecco, questo non può farci stare tranquilli. La comunione, la comunione dei beni non è qualcosa che lede la persona ma la eleva. Eleva chi dona donando a chi riceve. Il cristiano, la coscienza cristiana è puntellata da questi eventi perché non può star tranquilla. Non possiamo stare tranquilli quando, come abbiamo detto nel Deuteronomio, la promessa di Dio è che non ci sia il povero in mezzo a te. Se in mezzo ad un popolo bisogna contare i poveri, evidentemente anche la coscienza cristiana, anche la coscienza credente ha bisogno di un sussulto, di un sussulto di verità e di un desiderio di giustizia. Lei ha detto che la carità è ristabilire la giustizia. Ho citato Don Primo Mazzolari dicendo che ciò che spetta la carità, ciò che spetta la giustizia non può essere appaltato alla carità. Perché con la giustizia si esercita un servizio, un potere sulle cose che sono di tutti. La carità si fa con le cose proprie. E' troppo facile ristabilire i conti, il caso di Zaccheo lo rivela chiaramente, non ristabilisce i conti con la cassa dei pubblicani, ma dice io restituirò di quello che io ho frodato. Riconosce la sua disonestà, quasi a dire che anche l'errore, non c'è errore che sia insanabile se ci si rende conto che è possibile innescare processi nuovi. Don Gerardo, le volevo chiedere un'altra cosa. L'atteggiamento del povero e del ricco naturalmente è totalmente diverso. Il povero, sia in passato, che anche nei tempi attuali, certo è chiaro che poi dipende anche da quello che è l'aspetto caratteriale di una persona, però si pone in un modo diverso verso chi è che anche non ha niente come lui e dà, offre, a differenza del ricco o del benistante. Credo che non sia mai facile creare delle categorie precise. Ci sono tante forme di povertà e anche tante forme di ricchezza. Le sfumature, come accade sempre anche nella nostra umanità, nella nostra esperienza, sono molto più labili. Non è facile tracciare delle linee rette. È possibile incontrare un povero capace di donare quel poco che ha. Luca nel suo Vangelo ci parla della vedova che, vista da Gesù dinanzi al tesoro del Tempio, mentre i ricchi gettavano nel tesoro molto del loro superfluo, a nota l'Evangelista, questa donna vedova, quindi già in una condizione di effettivo bisogno, anche di protezione, gettò nel tesoro del Tempio due monete, tutto quello che aveva, cioè tutta la sua vita. È un segno della fede che si offre, ma non è un fatto naturale, non è automatico. Ecco, io non eviterei di creare delle categorie, ma fare una chiamata alla comunione, all'equità, all'attenzione all'altro che riguarda il povero come il ricco. Tant'è che l'esito della parabola del ricco e del povero Lazzaro non è lodare né la condizione di Lazzaro giù sulla terra, né la condizione del ricco, poi al di là. Un'ultima domanda, la mormorazione. Ecco, lei l'ha sottolineato questo aspetto perché è molto evidente nella parabola di Zaccheo quando Gesù lo chiama e decide di entrare a casa sua. Ecco, quanta mormorazione c'è oggi. A chi spetta giudicare dove il Signore vuole fermarsi e a chi vuole salvare? A questo aspetto a lui. Dice anche che a noi non spetta neanche di dover tirar fuori la zizzania in mezzo al grano per evitare che tirando via la zizzania si possa estirpare anche il grano. La mormorazione, proviamo a dire prima, accompagna un po' tutta la storia della biblica. Il popolo di Israele mormona nel deserto, eppure l'aveva visto il potere di Dio che l'aveva liberato, anzi aveva pregato per essere liberato. E questa folla, che poi è la stessa che prima fa da muro a Zaccheo nella pagina del Vangelo di Luca, in realtà era lì, l'aveva visto il Signore, eppure non riesce a gioire della gioia dell'altro. Dice è entrato in casa di un peccatore. E mi veniva da sottolineare questo, ma può Gesù entrare in casa di qualcuno che non è peccatore? Forse la mormorazione nasce da una presunzione di giustizia, o forse dalla difficoltà, dall'incapacità di guardarsi dentro, o dalla paura di non essere visti. Sono tante le motivazioni. Zaccheo prende il buono anche da questo atteggiamento, anche in questo c'è il maestro. Non inizia innanzitutto a difendersi, non attacca coloro che oggettivamente nel loro atteggiamento non possono essere lodati, ma prova a chiedersi, ma fosse che magari alla base di questa mormorazione c'è qualcosa di vero. Sì, è entrato in casa di un peccatore, io sono un peccatore, quindi che faccio? Provo a convertirmi. Grazie Don Gerardo. Grazie a voi.